Lo so che a molti di voi non interessa e fate bene, calcolate che io gli strike li ho dati, in questo periodo, solamente a colui che aveva caricato tutto il mio cicciochamere89 live show, stop! Quindi non date retta a voci e a cose, ho semplicemente rimosso il mio contenuto che non volevo andasse online e ho dato gli strike, stop! Non ho dato altri strike, non ho dato niente, quindi raga, occhio le bufale, come vi stavo dicendo, perché ne girano tante, occhio ad alleanze fra canali che fanno un po' i birbantelli, qua dovrebbe intervenire YouTube e far cagare per... Simone, intervieni tu e smaschera questi fannulloni che mi si possono non culare un'altra porta. Quando una persona come me, che non beve caffè, assume quella piccola quantità di caffeina, si ritrova alle 5 del mattino a suonare la chitarra e, però, in compenso, ho scritto un nuovo video. In tutto l'arco di domani lo girerò e lo monterò, vi posso fare solo un piccolo spoiler, riguarda vari YouTuber, tra cui CICCIO GAMER! No!